Tutto nasce un anno e mezzo fa circa, quando il dottor Michele Dorazio e l'avvocatessa Giovanna Giuliani, proprietari da poco di questa villa, da qualche anno a dire la verità, ma i lavori erano in fase di restauro, la lilla era in fase di restauro, mi hanno chiesto, Franco, che facciamo per rilanciare la figura del maestro e per dare smalto a ciò che ha fatto e che ormai purtroppo a Pesaro se lo sono completamente dimenticato? Bella domanda. È stato allievo del Conservatorio Rossini all'inizio del Novecento, il maestro Zandonai, poi è stato anche direttore. Per riportare in auge la figura del maestro, istituiamo un premio. Allora loro fanno una fondazione con il commercialista Cappellini e decidono, con il mio consiglio, di istituire un premio di studio per l'Accademia di Cantro del Conservatorio Rossini. D'accordo con il maestro e il direttore Fabio Masini, che si è detto subito entusiasta di questa iniziativa, abbiamo dato vita a questa cosa. Il Conservatorio è ben lieto di partecipare a questo impegno, a questa iniziativa perché è un impegno volto a guardare al futuro e al tempo stesso a rivalutare le nostre giovani promesse. In questo caso la prima borsa di studio che la fondazione ha messo a disposizione è legata al mondo del canto, quindi la vincitrice, questa cantante soprano Elisabetta Shuvalova, che studia canto qui al Conservatorio di Pesaro, ha vinto interpretando un'aria tratta dall'opera I Cavaliere di Ekebu di Zandonai. Il concorso prevedeva l'esecuzione di un'aria tratta dal repertorio di Zandonai e di un'aria a loro piacimento. Nell'occasione appunto della premiazione verrà mandato il video di questa performance della vincitrice. L'11 di settembre avremo il piacere di inaugurare questa villa completamente restaurata sotto la tutela della soprintendenza di Ancona, anzi sarà presente la soprintendente, verranno da Rovereto tutto lo staff dirigenziale del centro studio di Zandonai di Rovereto, il vice sindaco di Rovereto come dicevo, e quindi avremo tutti quelli che sono del Conservatorio e che hanno un ruolo importante insieme al Conservatorio, tutto lo staff dirigenziale. Avremo anche l'onore e il piacere di avere il Vescovo Monsignor Coccia che verrà al momento del taglio del nastro fornire anche la benedizione. Il principio era quello di aiutare a diffondere e a ridare lustro alla figura di Zandonai, speriamo che un po' la città ci aiuti, che ci aiuti anche la stampa fra l'altro e speriamo di riuscire in questo intento. Siamo aperti a qualsiasi tipo di iniziativa che possa dare, diciamo così, lustro al maestro.